Ciao a tutti ragazzi qui è il vostro Archevi Parla, sono qui per parlare di The Iron Dragon perché non lo sapesse è una custom nuovissima uscita proprio in questi giorni circa il 2 di giugno che è praticamente una The Rise and Drache ma un attimo rimmaginata infatti alcune zone sono letteralmente identiche prese direttamente da The Rise and Drache ma moltissimo del castello è ampliato e modificato e secondo me è fatto veramente benissimo inoltre quella che è la zona della First Room è presa direttamente da Origins, anche quella leggermente modificata l'unico pezzo totalmente identico è la zona del carro, quello che sarebbe il Generatore 6 per quanto riguarda invece The Rise and Drache le zone identiche sono la corrente e i laboratori dove è presente anche la speedcola e uno dei draghi perché sì, in questa mappa ci sono gli archi tutti quanti ottenibili con la versione base riempiendo i tre draghi e poi tutti quanti gli upgrade che sono comunque identici all'originale ma se non la mappa modificata alcuni passaggi sono molto semplificati o comunque tutti quanti gli spot a tutti gli oggetti di nostro interesse si trovano in punti diversi voglio ovviamente salutare il buon Giuliano, il buon Mike Dude e il buon Phil che mi hanno accompagnato nell'esplorazione di questa mappa che è stata molto particolare, ergo i primi dieci round passati a dire quanto è grossa questa mappa, quante porte ci sono questa mappa è dannatamente enorme e ci sono porte su porte cioè dire che dopo un po' quando ci siamo un attimo orientati ci siamo accorti che tantissime porte da aprire sono solo di collegamento quindi non è che siano obbligatorie però tanti punti dopo ci siamo accorti che tante zone erano collegate in maniera anche abbastanza decente però all'inizio è molto molto confusionario e di punti per aprire tutto ce ne vogliono davvero tanti inoltre i perk sono ovviamente in location totalmente diverse ma ce ne sono veramente tantissimi gli unici penso identici sono la speedcola e la stamina che sono i punti rispettivi di The Rise and Drache devo ammettere che tutto quanto il castello ampliato potendo andare anche sul tetto avendo tantissime altre stanze è qualcosa di veramente incredibile non so quali siano i creatori multiple che hanno ideato questa mappa ma sono veramente dei matti perché tutto quanto funziona veramente molto molto bene sembra soltanto una versione alternativa di questa mappa e funziona benissimo la mia battuta è stata che se qualcuno ha Black Ops 3 su pc ma non ha le mappe quindi non ha The Rise and Drache può tranquillamente scaricare questa custom e l'esperienza a mio parere è letteralmente identica comunque di ottima ottima qualità siamo stati veramente tanto tempo a cercare di risolvere tutto quanto per come potenziare gli archi e c'è ovviamente anche un easter egg non ho visto se c'è direttamente una guida completa quantomeno sul forum di steam collegata a questa mappa ma so che qualche youtuber ha già fatto delle guide e sinceramente ci stavo pensando anche io perché sono davvero molto interessanti e gli archi alla fine non è che siano così complicati ripeto che sono molto simili a come sono su The Rise and Drache per quanto invece riguarda gli easter egg noi qualcosina abbiamo fatto ma davvero poco e state lì a spremereci il cervello veramente tanto ma devo ammettere che come guida Giuliano che ogni tanto ha delle intuizioni veramente mostruose non soltanto qua ma in tante altre mappe qualcosina siamo riusciti a fare cioè non toglie che avere una guida in questi casi non dico sia obbligatorio ma è estremamente comodo sbottendo quindi la testa per diverso tempo siamo riusciti a recuperarci tutti quanti gli archi e a potenziarli e se avete sotto quello che è la guida base diciamo dell'arco su The Rise and Drache qualcosina potete combinare ma quelli che sono appunto come detto prima gli spot o alcune delle cose da fare per quanto molto simili sono in posti diversi quindi fa veramente strano e all'inizio può essere anche disorientante ad esempio io stavo facendo l'arco del fuoco e alcuni passaggi hanno letteralmente identici e molto molto facili ma altre volte invece non stavo capendo bene che cosa fare ad esempio lo step dei camini che da fare su The Rise and Drache qua è molto più semplice ma non ne sei sicuro perché si ti dà il passaggio completato ma pensi non è che magari c'è qualcos'altro da fare o anche solo stupidamente quella che è la sfera gigante di fuoco che appare su The Rise and Drache c'è anche qui e la guida che stavo seguendo per l'arco di fuoco di base mi diceva di ucciderci uno zombie sotto non mi stava funzionando e dopo ben due o tre round di tentativi totali arriva il buon Giuliano che fa ma scusa cliccaci sopra per l'interazione e funziona è una cosa così stupida dannazione però ci siamo riusciti è stato veramente molto figo mi serve un Giuliano anche quando mi pulisco il culo così nel dubbio io dico Giuliano non sto dimenticando è questo dico a posto la cosa che ci ha richiesto più tempo è l'arco dei teschi perché i passaggi sono letteralmente identici però ci sono come al solito tutti i teschi da raccogliere in spot totalmente nuovi di questa mappa e poi il passaggio di dover dire il nome del tizio dentro il vaso che è sempre una cosa molto fastidiosa con tutti i simboli totalmente fattibile ma a mio parere è uno degli archi più noiosi da completare mentre quelli del lupo e quelli del fulmine sono stati molto tranquilli e l'altra cosa divertente è che una volta completati tutti gli archi ci siamo accorti che non è che quell'arco obbligatorio soltanto per il player che l'ha completato bensì tutti gli archi sono raccoglibili da tutti i player quindi sì se volete quattro archi del fulmine lo potete fare l'altra cosa strana era il ragnarok che qua non era presente come su Driesendrache per quanto ci fosse il panzer ma molti di meno non c'erano comunque tutti quanti i pezzi magari volanti o altre cose del genere e ovviamente non c'è il razzo per cui dopo un po' che stavamo sbattendo la testa ci siamo accorti che in questa stanza che c'erano tre leve che non stavano capendo a cosa servissero in realtà queste leve muovevano una specie di contatore che non soltanto c'erano dei numeri ma anche delle lettere quindi scrivendo dc4 potete raccogliere i tre pezzi e fare quindi il ragnarok nuovamente identico a Driesendrache c'è anche appunto lo scudo da poter costruire e anche lì gli spot ovviamente sono diversi dato che la mappa è così grande consiglio ovviamente giocare questa mappa in più player per quanto immagino che in singolo le porte costino di meno ma ad esplorare in tanti è veramente molto molto bella e vi consiglio di lasciarvi le guide se non state sbloccando qualcosa veramente come carta da giocare alla fine perché cercare di scoprire tutto quanto da soli è estremamente divertente per quanto riguarda invece l'easter egg prima o poi mi ci metterò a completarlo perché sono veramente curioso e a quanto ho capito la boss fight è molto molto bella qui ragazzi questa era la custom Iron Dragon uscita di recente per Bluecoops 3 come al solito sempre su PC la versione Steam vi lascio il link in descrizione è veramente fantastico che ci sia un altro periodo assurdo per quanto riguarda le custom perché altre volte invece ci sono dei momenti in cui non esce niente per molto molto tempo o escono delle custom solo di divertimento e non di qualità così assurda che è giusto un attimo metterci hype come al solito non sono mappe ufficiali ma offrono molto molto divertimento e molta rigiocabilità come praticamente tutte quante le custom di Black Ops 3 fatte bene che offrono una mo' di contenuti per questo gioco inattaccabile voglio quindi sempre ragazzi le vostre opinioni per chi magari ha seguito questa partita in streaming che è durata veramente tanto ma ci sono divertiti tantissimo fatemi sapere se già conoscevate questa mappa che è uscita appunto in questi giorni ed è nuovissima un attimo che cosa ne pensate il video quindi si conclude qui spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto trovate tutti quanti i miei social qui sotto in descrizione tra cui Instagram, Twitch e il canale Discord ce l'ho come sempre a un prossimo video un abbraccio Ava